Salve a tutti ragazzi, qui Caprapaz e in questo inizio nuovo video siamo riperonati su Minecraft Adesso sono in creative in questo mondo, perchè sono in creative, adesso lo vedrete per poco Adesso lo vedrete perchè sono in creative, vedete questo? Beh, farà sempre giù Però, non andrà qui, questo è il problema, ma acceleriamo E entriamo nella lava Ragazzi questo è un troll che voglio fare a Sergio E niente, adesso lo sveglio e gli chiedo se giochiamo a Minecraft insieme Non so se mi sentite, attivate i sottotitoli, se li ho messi, quanti li ho messi i sottotitoli Quindi ragazzi, pronti per lo scherzo, adesso esco dal mondo Buona visione Ciao 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 Tu sei ancora in miniera? E' vero E... Vieni... Ah beh... E c'era una miniera E vai un attimo a casa, aspetta... Andiamo un attimo in creative, vai ti faccio uscire alla... No Eh, metto a caricare, no? No No Eh, sono... Prima facciamo sta cosa Ehi... 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 Ehi.... Oh... Oh, no Vieni Ragazzi stas facendo Ebbiamo adesso Andiamo un attimo nella ferrovia Questa è meno questa la miglioriamo Vi metto la roba Che non ho mai niente Vieni 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 Io vado a prendere quello su Intanto vai No c'è sono C'è sono solo su Ti mani in carte Da tu tu vai E vabbè Ti hai creati un fila da io No 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 Sei morto Sei stumido Vediamo se sei Ancora in tempo Oddio Scherzone Stavo registrando Oddio Oddio No sei morto Vai Ferti un'armatura Prendi la mia No La casa Serra la casa Aiuto dai Serra fermo La casa Dio mio Stavo scherzando È uno scherzo No sei No sei non distruggerla No sei No sei Ah che Suoi atti su quel villaggio Bravo Suoi atti sul villaggio Amato quel villaggio Forse ti calmi Ragazzi Questo scherzo Non è che è andato molto Molto bene Ha fatto un po' di casino Niente di No ho sbagliato Madonna Questo scherzo Non è andato molto bene Perché Mi ha distrutto casa Ma vabbè ragazzi In questo video Era uno scherzo Sergio Mi deve fare un altro Chi lo sa Lo scoprirete nel prossimo video Che sarà domani Andatevi a vedere Il kit Che ne mars No Io Sarra basta No Dai Sarra basta io Basta Mi devi volare È uno scherzo Io Ridicci un po' su Sottogli 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 Mi hai bruciato Tutta la roba E infatti ti ho detto Prendi E io te l'ho detto Di farti unpilarla Ma sei stupido Non lo fai E sei tranquillo C'è già questa armatura aperta L'avevo già pianificato Questa armatura aperta E poi te la fai In creative Le armi Dai Tanto era un scherzo Te lo puoi permettere Questa Questa No Non te la darò mai Vai via Era un'armatura per te E io non te lo permetto Ma bene ragazzi Per questo video Era tutto Noi ci vediamo Al prossimo episodio E io non te la darò mai E io non te la darò mai